Il blog Il Tecnologico è una risorsa multimediale integrativa resa disponibile ai docenti di tecnologia che hanno scelto i libri della casa editrice Lattes. L'home page del Tecnologico si presenta in questo modo. Scorrendo la schermata è possibile visualizzare l'intera pagina iniziale del magazine online. Nella barra dei menu in alto i contenuti del sito sono sottivisi in base alla tecnologia. Cliccando sulla voce Articoli è possibile accedere ai principali nuclei tematici che caratterizzano il blog, gli stessi che troviamo nella sezione centrale. Ogni nucleo tematico è caratterizzato da un colore differente, che evidenzia gli articoli di ogni sezione. Per visualizzare un articolo basta cliccare sul tasto Leggi tutto, così da accedere al contenuto. Negli articoli sono presenti diverse parole chiave in evidenza. Passando con il cursore sopra di esse, sarà possibile visualizzare un pop-up contenente una breve spiegazione o un approfondimento. Ogni articolo può contenere un video riferimento all'argomento trattato, che è possibile visualizzare a scambio di tec. Cliccando sul tasto Avanti è possibile sfogliare le pagine del blog e visualizzare altri contenuti. Tornando alla Home è possibile visualizzare gli articoli in evidenza e gli ultimi articoli suddivisi per area grammatica. In ogni articolo sono presenti i tag di riferimento in alto a sinistra, colorati in base all'area tematica. Cliccando sopra un tag sarà possibile visualizzare tutti gli articoli correlati. Tornando all'home page e scorrendo la schermata, oltre agli articoli suddivisi per nucleo tematico, è possibile visualizzare gli ultimi articoli in base all'anno scolastico, caratterizzati sempre da colori differenti. La stessa suddivisione è presente nella barra dei menu. Cliccando ad esempio sulla voce secondo anno, saranno mostrati tutti gli articoli consigliati ordinati cronologicamente. Visualizzato un contenuto è possibile condividerlo sui principali social network o inviarlo per e-mail cliccando sulla casella di posta. Accedendo alla sezione video sarà possibile visualizzare tutti gli articoli contenenti un video corredato all'argomento trattato. Nella sezione tutorial sarà possibile visualizzare delle esercitazioni guidate passo dopo passo. Cliccando nella sezione Plane T sarà possibile invece scaricare la versione PC dell'Atlanto Multimediale. Tornando all'home page, sulla parte destra della schermata, sono presenti due sezioni che permettono un collegamento alla sezione delle competenze e uno alla sezione riguardante i bisogni educativi speciali. In quest'ultima sarà possibile scaricare i percorsi DSA del volume settori produttivi, del libro Tecno Media Smart e la scheda prodotto. La barra dei menu presenta anche uno strumento di ricerca caratterizzato dal simbolo delle lenti di ingrandimento. Cliccandoci sopra sarà possibile effettuare una ricerca per parole chiave. Sarà poi possibile visualizzare i contenuti di ricerca svolta e, cliccando su un puntato di interesse, accedere al contenuto dell'articolo. Grazie a tutti!